Oggi eri seduto da fianco, ripeto oggi inauguriamo una bella stazione, ma non è un problema personale, ma sì, ma guarda i rapporti cordiali, ma non è e ne sarà mai un problema personale, Bonafede è una brava persona, ma ha portato in Consiglio dei Ministri una riforma della giustizia che non risolve i problemi della giustizia italiana, per fare i ministri non basta essere delle brave persone, quindi non è mai un problema personale, però bloccare un'opera fondamentale come l'alta velocità che per me dovrebbe unire l'Italia, da nord a sud, io non voglio meno treni, voglio più treni, da Torino a Bari, quindi dire di no al futuro, al progresso, ma è come dire di no alla trivelazione per cercare il petrolio o dire di no ai termovalorizzatori, oggi ho letto un'intervista surreale del Ministro dell'Ambiente Costa, per cui se bruciano i rifiuti in campagna è colpa mia, è colpa della polizia, ma siamo veramente su Marte, se i rifiuti non si valorizzano è chiaro che si aiuta la camorra e la criminalità e chi dice no ai termovalorizzatori dice no al progresso, al futuro, sono un po' troppi, è il no alle trivelle, è il no ai termovalorizzatori, è il no alla TAV, è il no all'autonomia, è no, è no, è no, non è che si vive di no.